Ciao a tutti! Allora, video velocissimo, mi sono preparata per uscire, ho fatto un po' di boccolini, vedete i capelli tutti carini con i boccoli, tutto trucchettino serale fatto con la naked e con il Russian Red. Ho utilizzato i colori scuri, quindi smog questo qui e un po' di nero. Niente, in pratica cosa è successo? Come sentite dalla voce nasale, sono stata malatissima e sono ancora malatissima, però stasera organizzavano una serata tutti quanti insieme ai miei amici, quindi volevo uscire anch'io. In realtà non so quanto sia una buona idea, perché sono completamente intasata, ma ieri ero veramente terribilmente costipata, tanto che mi sono sentita con Alina, Alina Adrenalina, scusate, sì, quindi Alessandra, del canale Adrenalina, che io chiamo Alina, che però praticamente parlavo con una voce tipo perché ieri ho avuto un abbassamento di voce pazzesco, quindi non avevo neanche la voce, non che stasera io sia in perfetta forma, però mi piaceva questo insieme che è venuto fuori, questo rossetto rosso, questo trucchettino che ha questi toni marroncini, che io non uso mai, è molto molto strong, però insomma sto andando in una discoteca, è mezzanotte e un quarto, sto aspettando che mi passino a prendere, bene sì, anche io mi vado a discotecare. Pronto? Ehi, sei fuori? Ah no, non mi arrivano infatti, va bene, arrivo, ciao! Devo andare, facciamo velocissimo, allora, non mi arrivavano infatti i messaggi su Whatsapp, ho messo questo illuminante, quello della Makeup Revolution, e poi ho messo questo blush che adoro, che è il numero 4 delle Cream All Over di Wicon, che io amo da morire, eccoli qua, cioè bellissimo questo, diamo una rinforzata. Ok, e poi ho messo il Russian Red, come vi ho detto, la Naked. E niente ragazze, semplicemente volevo fare la figa, volevo farvi vedere il look, sto facendo il cambio di stagione, dietro di me c'è un casino pazzesco, ma come al solito, voglio dire Silvia, che novità, vestitino di pizzo, che è cortino cortino, e basta, tutto qua, bacio!